Buongiorno a tutti, ben collegati, ora aspetta a me darvi il benvenuto per questa giornata di lavori. Io sono Manuela Donghi, ho il piacere di condurre la terza edizione di questo forum Intelligenza Artificiale and Digital Process Transformation Forum 2021 che è organizzato proprio dal gruppo Le Fonti e che trasmettiamo direttamente dai nostri studi nel Centro Storico di Milano. Quindi benvenuti a tutti voi, diamo il tempo a tutti voi di collegarvi ulteriormente anche se abbiamo già aperto i lavori con il keynote speech, anzi approfitto subito per ringraziare Roberto Marseglia per questo intervento di apertura grazie al quale anche sono stati tracciati un po' i punti cardine di quello che succederà in questa mattinata di lavori che tra poco vi spiegherò. Naturalmente è stato approfondito subito il concetto di etica e di interazione dell'uomo con le macchine. Adesso proseguiamo con l'agenda della giornata, ci saranno veramente tanti momenti, rubo giusto un minuto per spiegarvi cosa accadrà, avremo interviste, tavole rotonde, naturalmente parleremo di tecnologia che sarà un po' la parola chiave, che approfondiremo attraverso la voce di ospiti illustri e parleremo di intelligenza artificiale con alcuni progetti che sono veramente importanti, che daranno l'idea anche di quello che succederà nei prossimi tempi sviluppati dall'azienda italiana. Quindi avremo anche modo di approfondire questo tema attraverso degli esempi concreti, attraverso proprio delle esperienze dirette. Come detto, tecnologia al centro dell'attenzione, sempre però con un occhio attento al business, non si può prescindere da questo. Cercheremo di fotografare quella che è la trasformazione digitale nei diversi settori e discipline attraverso altri punti che andremo poi ad approfondire, linguaggio naturale, machine learning, data governance, e-commerce, cultura del cambiamento. Questi saranno solo alcuni dei temi principali di questo forum e di questa mattinata. E adesso noi partiamo proprio subito da due progetti concreti di applicazione dell'intelligenza artificiale nel settore industriale e nel mondo dei media televisivi e digitali. Quindi introduco con molto piacere i primi due ospiti. Riccardo Sesini, Head of Digital Transformation Bosch VHIT. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Ciro Gaglione, Head of Television Application Development Sky Italia. Grazie Ciro anche a te per essere con noi. Buongiorno e grazie mille per l'invito. E allora lascio subito la parola a Riccardo Sesini per il suo intervento dal titolo L'intelligenza artificiale nella supply chain, uno strumento per la digital transformation. Allora Riccardo, dopo torno da te, ma lascio a te insomma lo spazio per raccontarci. Bene, allora condivido lo schermo che ho alcune slide da supporto. Per prima cosa buongiorno a tutti, ancora una volta grazie per l'invito. E oggi vi voglio parlare di come l'intelligenza artificiale, ma in generale le tecnologie digitali, possono essere utilizzate come supporto per la supply chain. Alla fin fine quando parliamo di digitalizzazione abbiamo due obiettivi all'interno delle nostre aziende, che sono quelli o di creare nuovi prodotti, quindi aggiungendo magari della connessione, quindi anche dei servizi, o dall'altro punto di vista l'obiettivo è quello di rendere i processi più efficienti. Più efficienti vuol dire che vanno a costare meno e quindi più profittevoli. Ecco, oggi, in questa giornata, vi vorrei proprio parlare di quest'ultimo aspetto, di come gli strumenti digitali e anche l'intelligenza artificiale possono davvero essere un mezzo per rendere i nostri processi più efficienti. Che cosa vuol dire più efficienti? Vuol dire che i nostri processi, qualsiasi essi siano, sono sempre presenti degli sprechi che in giapponese, dove questa filosofia è un po' nata, vengono chiamati in muda, in muda di processo. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, ad esempio, di movimenti inutili o non necessari. Questi movimenti, quindi, impiegano risorse, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista dei mezzi impiegati. E quindi sto sprecando delle risorse per qualcosa di non necessario. Un'altra grande classe di difetti, di sprechi, sono i difetti, quindi i problemi di qualità. I problemi di qualità, se ci pensate, ci portano a l'impiego di tutta una serie di risorse umane, di capitale, macchinari, per andare a produrre qualcosa che poi letteralmente buttiamo via perché diventa uno spreco. Quindi tutto ciò è un grandissimo spreco e il nostro compito è quello di cercare di prevenire o di individuare per tempo questi difetti in modo che non vadano ad originare i sprechi. Un'altra grande classe di sprechi è il talento inutilizzato. Viene citato non troppo spesso, ma se ci pensate, anche in Italia abbiamo molte persone di valore che magari sono costrette a fare delle attività molto ripetitive, attività hanno un valore aggiunto. E quindi qua stiamo sprecando il loro talento intellettuale. Queste persone potrebbero essere impiegate in attività a più valore aggiunto e quindi generare più valore per l'azienda e anche per loro. Quindi insomma in tutti i nostri processi ci sono degli sprechi che devono essere sanati per rendere i processi stessi più efficienti. Ecco, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale diventano uno strumento proprio per andare a sanare questi sprechi. Quindi si parte sempre dal processo. Non viene prima la tecnologia, non vengono prima tutte le varie strumentazioni che possiamo avere anche nell'ambito digitale, non le andiamo ad implementare in un'azienda solo perché sono tra virgolette belle o perché vanno di moda, ma queste devono essere utili al processo stesso. Quindi prima il processo e poi la tecnologia. Per fare questa cosa si va a coniugare l'utilizzo degli strumenti di lean manufacturing, quindi filosofia giapponese derivante da Toyota, con le tecnologie digitali. La parte di lean manufacturing ci consente di mappare il processo produttivo, quindi rappresentarlo e analizzarlo in ogni sua parte su carta e una volta che il processo è stato mappato vengono identificati gli sprechi e su questi si può agire come anche con le tecnologie digitali. Sottolineo anche, le tecnologie digitali non sono obbligatorie ma rappresentano davvero un buono strumento per poter sanare questi sprechi. Quindi vedete in questa rappresentazione che abbiamo una, viene chiamata value stream, quindi il flusso di valore ad alto livello, su cui andiamo a inserire determinate tecnologie digitali con degli obiettivi. E così nell'ottica della qualità, se vogliamo favorire la tracciabilità, possiamo utilizzare ad esempio sistemi RFID. Se vogliamo invece avere un supporto per la manutenzione, possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale che ci consente di avere degli strumenti di manutenzione predittiva. E quindi ancora una volta, gli strumenti digitali diventano un supporto per l'ottimizzazione dei processi stessi. Facciamo alcuni esempi. Il primo esempio è questo, tracciabilità, quello che ho citato prima, e il processo iniziale era fatto in questa maniera. C'era l'operatore che andava a vedere in ogni corsia, li vedete qui in alto, queste sono delle corsie dove viene allocato il materiale, quanto materiale ci fosse o se ne mancava. Dopodiché tornava presso il magazzino, apriva degli ordini di trasferimento sul sistema gestionale, prendeva il materiale, lo riforniva nelle corsie e poi questo materiale veniva utilizzato in fase di assemblaggio. Ecco, questo processo ha degli sprechi, banalmente l'operatore che deve andare a vedere con un processo che viene chiamato di going see, se c'è del materiale o manca presso le corsie. Immaginate che se invece il materiale c'è, lui ha fatto dei viaggi a vuoto perché non deve rifornire. Quindi questo è, ad esempio, uno spreco in un processo produttivo. Come può essere migliorato? Ancora una volta, gli strumenti digitali ci danno delle alternative, quindi se noi andiamo a introdurre degli alert automatici, quindi dei sensori che ci dicono in automatico guarda che manca del materiale in quella corsia, l'operatore non deve più andare a vedere se effettivamente il materiale deve essere rifornito o meno. Quindi l'operatore riceve questo avviso, prende poi il materiale e lo va a depositare nelle corsie. E anche qui, come vedete all'immagine, il deposito del materiale può essere fatto con degli strumenti digitali che ci dicono in quale corsia andare a inserire il materiale. Quindi in questa maniera riesco a prevenire anche errori di allocazione del materiale. Quindi qua abbiamo visto un primo esempio in cui gli strumenti digitali ci aiutano a sanare una determinata categoria di sprechi. Facciamone degli altri e parliamo di intelligenza artificiale. Quindi anche in questo caso con la stessa filosofia l'intelligenza artificiale diventa uno strumento per sanare questi sprechi. Ad esempio, classica categoria di sprechi, gli scarti e gli errori. Vedete qui due immagini, sulla destra c'è una pompa del vuoto e in determinati casi questo componente è soggetto a scarti. Allora, prima quello che succedeva che c'erano degli operatori dedicati a un controllo visivo di questo prodotto per capire se era uno scarto o meno. Ecco, questo è uno spreco anche di talento perché sta utilizzando delle persone per fare delle attività a poco valore aggiunto, controllare dei pezzi. Allora, il tutto come può essere sanato? Telecamera, algoritmo di intelligenza artificiale, faccio una fotografia per ogni pezzo prodotto e lo analizzo. E in questa maniera abbiamo visto che ad esempio la percentuale dei falsi positivi è scesa di un 2%, quindi sto giudicando in maniera corretta dei pezzi buoni. Altro esempio, lo vedete sulla sinistra, in questo caso il problema era quello del mischiamento del materiale, quindi avevamo dei rotori di varie tipologie A, B e C che venivano mischiati in determinate contenitori cassette. Ecco, in questo caso anche qui c'era una persona dedicata al controllo di ogni singolo rotore, ma capite che dover far passare tutti i rotori in una cassetta non è sicuramente un'attività a valore aggiunto. Anche qui come può essere risolto questo problema? Telecamera, algoritmo di intelligenza artificiale, in questo caso una rete neurale, che è in grado di analizzare ogni singolo rotore in maniera istancabile, non commettendo errori e dicendoci quindi se il materiale è idoneo ad essere assemblato. Quindi anche qui l'intelligenza artificiale è uno strumento per la risoluzione dei problemi e degli sprechi di processo. Ultimo esempio, sempre in questa direzione, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata non solo su macchinari nuovi, può essere utilizzata in generale su qualsiasi macchinario. Qui vedete sulla sinistra una macchina utensile datata, nel senso che è circa degli anni 2000, che è stata retrofittata. Quindi sono stati aggiunti dei sensori assorbimento di corrente, vibrazione del mandrino e in più tutto ciò la macchina utensile è stata collegata. Collegando la macchina utensile quindi si sono presi tanti dati di processo e questi dati sono stati analizzati tramite l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che cosa ci dice? Manutenzione produttiva, la vedete qua in basso, ci avvisa con giorni, anche mesi, in determinati casi di anticipo, quando la macchina si romperà e quindi abbiamo tutto il tempo di intervenire magari evitando determinate fermate in punti critici della nostra supply chain e quindi anche qui riesco a sanare degli sprechi. L'ultimo in basso è un sistema che riesce a dirci quando la vita di un utensile è esaurita. Questo che cosa ci può dire? Ci può dire che invece di utilizzare un utensile e aspettare che vada rottura o cambiarlo quando ho ancora della vita utile un algoritmo mi può dire cambialo ora perché è il momento in cui l'utensile ha esaurito la sua vita utile. Ecco in questa maniera riesco a sanare altri sprechi, quelli che vi ho detto, quindi riesco a utilizzare fino in fondo la vita dell'utensile e quindi anche in questo caso rendo il mio processo più profettevole. Quindi per concludere l'intelligenza artificiale, gli strumenti digitali sono degli strumenti a supporto del mio processo di miglioramento continuo volto a rendere i processi produttivi sempre più efficienti e quindi più profittivi. Grazie per l'attenzione. Ecco Riccardo io ho una domanda e peraltro è interessante quello che hai detto perché al di là di rendere più efficienti tutti i sistemi produttivi abbiamo compreso anche come sai che si dice sempre insomma eh beh ma con le macchine la tecnologia poi le persone possono essere messe da parte possono essere relegate. Avviene esattamente il contrario tu hai parlato di maggiore possibilità di esprimere il talento delle persone perché le persone appunto non sarebbero più utilizzate usiamo questo termine insomma tra virgolette per lavori marginali e potrebbero esprimersi di più questo è un concetto assolutamente perfetto se ho compreso se ho compreso bene. Perfetto ok volevo rimarcarlo perché si ha un po questa paura no rispetto alle macchine che sostituiranno l'uomo invece se utilizzate bene e se utilizzate bene tutte le potenzialità accadrebbe esattamente l'opposto. La domanda in realtà che volevo aggiungere è questa c'è possibile dire in quali settori potrà essere maggiormente applicata proprio l'intelligenza artificiale se ci sono insomma quali potrebbero essere? Allora l'intelligenza artificiale ha una caratteristica funziona molto bene dove io ho dati dove ho molti dati a disposizione e soprattutto è applicabile a quei processi che io non riesco a osservare se io ho un sistema fisico che io riesco a osservare direttamente allora posso procedere con la programmazione tradizionale e quindi con quella che viene chiamato metodo esplicito rule based sono io essere umano che vado a descrivere le regole per risolvere per quel particolare problema ma voi pensate invece a casi in cui non riuscite a osservare il sistema e l'unica cosa che riuscite a fare è prendere dati in maniera indiretta quindi con della sensoristica da quello stesso sistema ecco in quel caso l'intelligenza artificiale funziona molto bene quindi un tipico campo di utilizzo è la medicina il corpo umano è difficilmente osservabile in maniera diretta invece è possibile con sensoristica dedicata riuscire a prendere dati derivanti direttamente dal corpo umano ecco quindi in questa maniera prendo dati li posso analizzare con l'intelligenza artificiale e posso risolvere ad esempio le mie problematiche quindi sicuramente l'intelligenza artificiale è applicabile e lo è già nel campo della medicina e già ad oggi vediamo anche altre applicazioni di intelligenza artificiale come vi ho mostrato nel campo manufacturing in che settori computer vision quindi riconoscimento degli scarti e riconoscimento degli errori in generale è il sistema che vede un qualcosa e lo elabora e poi anche in funzione della manutenzione predittiva l'altro grande settore è quello che viene chiamato NLP natural language processes quindi in tutte quelle attività che richiedono un'interazione con gli esseri umani per l'interpretazione del linguaggio parlato pensate ai dispositivi commerciali che vi permettono di interagire o anche per l'interpretazione del testo scritto e banalmente i sistemi che fanno traduzione in lingue diverse utilizzano anche l'intelligenza artificiale perché proprio riescono a capire cosa una persona ha scritto e la traducono in un'altra lingua ok ok ottimo allora Riccardo sesini grazie per questo tuo intervento molto molto interessante perché ha toccato credo dei punti insomma che sono quelli fondamentali per poter guardare avanti e per poter evolversi da questo punto di vista allora io passo la parola adesso a Ciro Gaglione che abbiamo introdotto poco fa e ci buttiamo sulla trasformazione digitale della tv argomento insomma che personalmente mi interessa decisamente visto che anche noi ci occupiamo di quello però insomma toccheremo anche qui molti molti aspetti poi arrivo anche da te con una domanda ma insomma prima ascoltiamo il tuo il tuo intervento ok va bene provo a condividere lo schermo certo così abbiamo una raffigurazione di quello di cui discutiamo oggi ok ok beh oggi parliamo di cambiamento parliamo di trasformazione parliamo di transizione perché come tu ben sai visto che sei nello stesso ambito stiamo vivendo una fase molto particolare una fase di trasformazione no indotta anche da come sta cambiando il mercato mercato che sta diventando sempre più più un mercato nazionale locale sempre più un'arena dove i player globali ott si sfidano a colpi di servizi ok negli ultimi anni l'industria dell'intrattenimento televisivo come schematizzato in questa slide diciamo è entrata nella nel tunnel della trasformazione sotto la fortissima spinta del del digitale e la domanda che proveremo a rispondere oggi è come ne uscirà e come impatta i modelli di consumo quindi come impatta il pubblico e i clienti bene se guardiamo all'estrema sinistra c'è raffigurata rappresentata quella che ieri quello che era il modello di consumo incentrato su un unico dispositivo il televisore unico elettrodomestico dove il canale era il mezzo per raggiungere e parlare il pubblico il contenuto al suo interno era l'elemento di valore il servizio era un'era che definivamo era dell'informazione e aveva l'obiettivo di informare il pubblico mi piace chiamare il contenuto king se tramite il canale parlavamo al pubblico lo ascoltavamo e lo ascoltiamo ancora oggi in parte attraverso il sistema di riferimento che è quello dell'auditel basato su un campione di pubblico statistico offline e aggregato tale tv lasciatemi dire ha vissuto già la prima fase di trasformazione dalla trasmissione analogica a quella digitale che ha comportato la frammentazione delle audience in canali specialistici questa è la fase della trasformazione però lasciato i modelli di consumo inalterati prima di entrare nel merito di ciò che c'è a destra nella slide faccio giusto due chiacchiere di contesto perché è importante capire dove ci troviamo in questo momento come anche introduci la prima riccardo nel suo intervento in una rivoluzione digitale una rivoluzione digitale un po per tutte le industrie prima parlava bosch che rappresenta l'automotive ove tecnologie piattaforme la blockchain i big data l'intelligenza artificiale lo sviluppo fondamentale delle infrastrutture it come il cloud come le infrastrutture di telecomunicazioni come la rete di accesso a banda larga e a banda oltralarga fanno sì che la velocità dell'innovazione tecnologica è sempre maggiore e a costi sempre minori cito due fattori due fattori abilitanti due fattori acceleranti la pandemia che ha creato un picco di domanda online che sta generando un cambio che ha generato non sta già generato un cambio delle abitudini un cambio della user experience un salto in avanti di 4 5 anni da cui difficilmente torneremo indietro questo implica il pubblico i clienti il pubblico i clienti si stanno abituando a nuove tipologie di servizi e relazioni con le aziende fondamentale questo aspetto e assolutamente sbagliato pensare che torneremo a fare business come era prima della pandemia secondo fattore accelerante è quello che citavo prima lo sviluppo delle infrastrutture di tlc delle reti di telecomunicazione questi ultimi quattro anni soprattutto in italia abbiamo avuto uno sviluppo importante della rete d'accesso in banda oltralga l'ultimo miglio che si è abbastanza trasformato attraverso la fibra ottica e attraverso le tecnologie mobile e questo cosa implica che da un lato abbiamo un territorio abbastanza coperto con questa infrastruttura quindi ci permette di penetrare la rete ip un po dappertutto che genera abilita i nuovi modelli di consumo e infatti tutto ciò non fa altro che abilitare spingere la nuova generazione di televisione chiaramente prima vi parlavo di mercato di mercato locale polarizzato da player globali che si contendono il mercato e avviene proprio questo le nuove modalità di consumo legate ai servizi non lineari un demand sempre più incentrate sull'esigenza del consumatore è sempre più lui a decidere cosa come quando dove e in che modalità a fruire del contenuto ok ma veniamo alla parte di destra della slide no la tv di oggi domani come si trasforma cambia già la sua definizione prima abbiamo detto era un elettrodomestico unico dispositivo oggi è oggi ha una nuova definizione dal mio punto di vista è un insieme di device di momenti e di luoghi di consumo il contenuto resta king ma cosa si aggiunge a questa nuova definizione che al mio avviso è l'elemento di maggior valore sulla catena sulla supply chain in questo momento se il contenuto se il contenuto è king la user experience è queen ed è questo un po il centro della nostra discussione di oggi c'è un passaggio di era si passa dall'area dell'informazione a quella della relazione dove il valore si trasferisce nella capacità oggi di stabilire un rapporto partecipativo colloquiativo col proprio pubblico no cioè conta oggi a mio avviso ed è fondamentale questo questo elemento conta la capacità empatica di comprendere nel profondo le dinamiche alla base delle scelte delle preferenze e quindi sto già introducendo un pochino il senso del mio intervento la datificazione no quindi il modello di tradizionale di consumo televisivo rispetto a quanto abbiamo visto lì nello schermino a sinistra si evolve in nuove forme di intrattenimento una è l'elementizzazione mediale abbiamo parlato di UX uguale queen elemento differenziante della catena del valore cioè sta avvenendo una risemantizzazione del classico rituale di consumo che poi è proprio il significato della trasformazione delle audience per cui i contenuti on demand trasformano le audience che erano scarsamente ingaggiate e largamente a sue fatte al flusso del palinsesto in consumatori selettivi orientati alla ricerca del contenuto da trasformare in evento mediale cioè prima aspettavo Sanremo sul divano oggi me lo scelgo io l'evento mediale di fronte al big screen ok cioè stiamo dicendo che si passa dal controllo della programmazione televisiva ai consumatori dei media il declino del vecchio palinsesto lasciando un maggior controllo diretto al pubblico che tende a a mio avviso a crearsi una programmazione personalizzata una sorta di playlist il suo palinsesto che diventa uno strumento di feedback importante ricco di informazioni per chi deve distribuire e produrre contenuti le vecchie audience come l'abbiamo spiegate prima si frammentano in comunità di interessi questo perché siamo passati da un'era o un'altra no i social media stanno disaggregando il pubblico generalista facilitando formazioni di comunità che hanno interessi comuni che fruiscono di contenuti simili cioè i nostri utenti il nostro pubblico si aggrega sempre di più per interessi piuttosto che per fascia nagrafica reddito residenza eccetera eccetera questo è un elemento molto importante nella fase di transizione sta venendo la trasformazione dei contenuti da media passivi a media attivi indotta dalla bidirezionalità abbiamo parlato di una rete bidirezionale di un'infrastruttura nuova di una rete di nuova generazione la rete ip internet e questo trasforma le piattaforme di distribuzione una volta unidirezionale nello schermino la a sinistra in piattaforme di partecipazione in cui gli utenti contribuiscono ad arricchire se non a realizzare direttamente parte dei contenuti la molteplicità degli schermi l'abbiamo citata nella definizione abilita nuove forme di consumo come il multiscreening cioè l'uso di austri device durante la visione sia per fare networked durante la visione oltre le mure domestiche sia per fare una nuova dinamica di consumo che è l'approfondimento in verticale o lo zapping in verticale che è un'attività che si fa in generale in parallelo alla fruizione del contenuto quindi l'approfondimento in verticale che è un comportamento a mio avviso concorrente al classico zapping in orizzontale e su cui si innesseranno nuove dinamiche di business attraverso la pubblicità in sintesi l'esperienza di consumo la possiamo vedere la possiamo vedere se è più digitale poiché è destrutturalizzata cioè non è confinata a uno specifico prodotto come si vede anche dallo schermino a uno specifico servizio ma è trasversale a una molteplicità di ambiti della quotidianità e questo ricalca molto la definizione che abbiamo dato appunto si definisce liquida la fonte è uno studio da center strategy che dà questa definizione diventano liquide le attese in generale cosa accade se ci pensate bene l'esperienza viene confrontata la user experience sempre con la mia esperienza indipendentemente dall'industria di riferimento quando io faccio una ricerca su google quello diventa il mio benchmark anche per il discovery e il suggerimento dei programmi televisivi indipendentemente che google è di un'altra industria liquidi sono i momenti l'esperienza si sviluppa l'abbiamo detto coinvolgendo device e attori multipli ma soprattutto liquide sono le identità che a mio avviso è uno degli elementi centrali fondamentali della trasformazione l'ho detto più volte le preferenze dei nostri utenti non possono più essere profilate staticamente e questo è un po il senso della trasformazione ma si viviamo dinamicamente nel tempo sulla base dell'esperienza che il pubblico vive mi piace appunto definire il pubblico dinamico e mi ricollego qui al tema della user experience perché la nuova user experience digitale consentirà in questa nuova definizione che abbiamo dato di costruire un link tra noi e il nostro pubblico attraverso ciò che gli offriamo e ciò che percepiamo da esso un link fattori bit che può diventare la fotografia più puntuale e particolareggiata della relazione fra chi offre il servizio e il pubblico cioè l'individuo smette di essere uno tra i tanti il telespettatore ma partecipa attivamente all'esperienza come dicevo c'è un incontro la bidirezione d'età c'è un incontro l'intelligenza artificiale proprio a essere sintetico stiamo dicendo quindi che l'aspetto centrale nella trasformazione di una difruzione è la cultura orientata la capitalizzazione dei dati allora valorizzazione in qualità di guidare decisioni anche in termini predittive superando i modelli basati sulla legazione delle misure della slide che avevo poco fa proiettato no ok per rispondere alla tua domanda mi spiace che mi sono perso parte dell'intervento dell'intervento è oggi ci stiamo muovendo su sistemi intelligenza artificiale stretti ovvero addestrati per seguire certi compiti specifici come suggerire un percorso suggerire un film ed è proprio questo il senso di quando si parla di machine learning questa logica si basa sul fatto che quello che si impara dal passato è il miglior predittore del futuro effetti e rischi nella domanda che mi hai fatto da un lato in teoria tendo sempre di più a ridurre l'incertezza a ridurre lo zapping nella scelta ho il rischio di polarizzare la scelta o di indurla cioè l'essere umano non cambierebbe mai perché sceglierebbe sempre la stessa cosa guarderebbe sempre lo stesso genere di film farebbe sempre lo stesso percorso in macchina la domanda è saremo in grado ancora di sorprendere il cliente? e questo è un fattore importante da tenere in considerazione sul contenuto invece la relazione col contenuto quello che mi aspetto che un po' sta già avvenendo è che anche il contenuto comincia ad avere delle forme native digitali che intendo come sta facendo già qualche provider cominciare a dare la possibilità di interagire sul contenuto e abbiamo visto gli esempi negli ultimi anni di alcuni provider globali che ti danno la possibilità di scegliere come finire una serie o come finire un film ok? questo è importante se pensiamo alla datificazione che abbiamo citato poc'anzi perché significa che in futuro potremmo avere lasciatemi dire dei contenuti dei film con un finale diverso per utenti diversi questo è un po' il senso del cambiamento in estrema razio sui modelli di consumo beh insomma avremo di che, avremo tanto da lavorare no? Ciro mi verrebbe da dire in conclusione però è bello insomma ci sarà sempre più un mondo aperto per tutti dove ciascuno si potrà esprimere in modo diverso, in modo più attivo, in modo più passivo però insomma sicuramente sarà una sinergia totale che è peraltro una delle prime parole che abbiamo utilizzato quando abbiamo compreso che per colpa o grazie a questo punto della pandemia le situazioni sarebbero cambiate quindi sinergia, fare rete, quindi in questo caso ancora di più insomma la rete diventa ampia e più ampia possibile visto che abbiamo il mezzo di comunicazione che raggiunge tutti, che mette in collegamento tutti quanti io ringrazio Riccardo Sesini e Ciro Gaglione davvero insomma abbiamo aggiunto già dei tasselli importanti al nostro forum di oggi mi auguro di parlare presto con voi in altre occasioni quindi grazie per essere stati i protagonisti del nostro forum e allora abbiamo già toccato le parole chiave machine learning ripetuta più volte va bene intelligenza artificiale naturalmente che è da cui partiamo cerchiamo di fare dei passaggi ulteriori vediamo come si applica nelle aziende andiamo avanti con il prossimo step Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti